Ciao a tutti, oggi sono qui con Dacia e Zuan e voglio avertirvi di una cosa. Ho aperto, cioè voglio fare un concorso, questo concorso direbbe, cioè di fare, di disegnare una bambola inventata. Poi, adesso vi dico i premi. Al primo posto ci sarà uno stop motion, una recensione, un disegno e una lettera. Al secondo posto ci sarà lo stop motion, la recensione e la lettera. Terzo posto, ovvero all'ultimo, ci sarà lo stop motion e una recensione. Chi vuole partecipare a questo concorso lo scriva qua sotto nei commenti. Ciao e grazie per aver guardato questo video.